La side visit organizzata in Fondazione Paideia vuole toccare il tema della fragilità familiare andando a ripercorrere i rischi di impoverimento non soltanto economico ma molto spesso anche sociale e relazionale che le famiglie che hanno bambini con disabilità incontrano nel loro percorso. Sono famiglie che si confrontano con il tema della disabilità in un momento particolare nel momento della nascita del loro bambino o nel momento della crescita del loro figlio. L'impoverimento riguarda generalmente anche una componente di tipo economico, finanziario ma molto spesso riguarda un bisogno di scambio, incontro, condivisione, supporto che può essere garantito sia da professionisti che in modo specifico e in modo competente si occupano dell'intervento di tipo sociale e psicologico ma può essere anche offerto da altre famiglie altre famiglie che in attività che vengono programmate durante tutto l'anno possono garantire questi momenti di confronto, momenti di confronto che diventano anche uno stimolo un rinforzo di quelle che sono le competenze genitoriali e che riguardano tutte le componenti familiari genitori ma anche fratelli, nonni e tutti coloro che in qualche modo si misurano con la necessità di aiutare un bambino con bisogni speciali nel suo percorso di crescita.